al completamento dell'assistenza in filiera, per intenderci abbiamo bisogno più di centri socioeducativi, abbiamo bisogno di case di riposo, abbiamo bisogno di case famiglie, di tutte quelle infrastrutture e strutture che sono la risposta reale ai bisogni di un vasto ventaglio di disagio, dallo psichiatrico all'anziano, all'alcolista, noi abbiamo bisogno di mettere in campo più risorse indirizzate e destinate alla realizzazione di queste strutture, solo così noi potremo consegnare ai nostri cittadini un'assistenza compiuta, facendoli sentire non solo non soli, ma accompagnati e utili in una vita che noi ci auguriamo debba essere sempre più lunga. Siamo in chiusura, un'ultima domanda, Marcello Pitella, chi vuol dire grazie oltre che ai suoi lettori, quindi a coloro che gli hanno riconfermato ancora una volta la fiducia? Io penso che debba dire grazie ai miei elettori, debba dire grazie alla mia famiglia per la pazienza che ha nel sopportarmi e nel sostenermi e debba dire grazie a tutti coloro che ancora, anche chi non mi ha votato, nutrono la fiducia nelle istituzioni, nei partiti, nella politica e in una vita attiva democratica che rappresenta a mio giudizio lo snodo per una ripartenza in termini di sviluppo e di progresso. Io penso che il grazie, dobbiamo dirlo esattamente a tutti coloro che ogni giorno si alzano come lei e lavorano per questa nostra società, al netto della preferenza e del voto. Io mi rivolgo esattamente a questo mondo, a questa società e poi all'interno di questo mondo, di questa società, mi pongo con grande umiltà e con grande disponibilità come persona pronta e decisa, forse per una parte anche in grado di intercettare i bisogni e le ansie che questo mondo ci presenta. Grazie al dottor Fittella per essere stato con noi, io vi saluto e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle 20.30, riprenderai in Basilicata Sud Ovest Tour. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.